e invece è stato dato da 3 punti, ma ero convinto che fosse da 2 anch'io, sarei curioso di rivederla questa perché mi sembrava che i piedi fossero anche dubbio su questa lettura, comunque 6 pari e 4 triple, fino a che Bortolin, ora ora, forse, si riesce a farsi un autotapping il cambio, con lui anche Nicolòi annuale due pezzi da 90 come cambi si svita Bortolin in qualche modo, recupera quella palla grandissimo, grandissimo controllo massimo vantaggio bergamasco a 2 minuti Mestre sta soffrendo un po' la difesa aggressiva è bellissimo questo assist di Pinton bella scivolata di Bortolin molto bella bella la lettura di Petrucci che questa volta aspetta e vede il il giocatore che ha la più alta media dei minuti giocati per gli ospiti percussione di Petrucci, un tiro un po' avventuroso ma la corregge Bortolin bellissima stoppata e palla recuperata la sporca benissimo Bortolin due volte molto ben fatto 3.22 Bortolin per Pinton Petrucci vediamo se eccolo là il gioco subito sempre la doppia fintone Bortolin tocchetto fondamentale diciamo molto bene la metà campo 10 secondi per l'azione Mestrena Casagrande Bortolin tripla grandissimo il campione argentino mette una tripla fondamentale